In tante parti si sentono gli effetti, uno degli effetti di questa pandemia, che tante famiglie che hanno bisogno fanno la fame. E purtroppo gli aiuta il gruppo degli usurai. Questa è un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare con figli. E poi gli usurai che li prendono il poco che hanno. Preghiamo, preghiamo per queste famiglie, per tanti bambini di questa famiglia, per la dignità di queste famiglie. Preghiamo anche per gli usurai, che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano. Grazie.